Ciao piccoli saldatori e bentornati nel mio laboratorio con un video che mi avete chiesto in molti Ho pubblicato questo post qualche giorno fa chiedendovi se volevate un video unboxing di strumenti fighissimi Avete detto sì e quindi video unboxing di strumenti fighissimi che ho preso per il mio laboratorio Questi strumenti che ho preso sono degli strumenti che mi serviranno per video futuri Che dove avevo bisogno insomma di maggiore precisione, uno strumento particolare Nuovi video didattici per vedere come funzionano le cose ma non vi voglio spoilerare niente Andiamo subito a vedere chi mi manda questo pacco e cosa c'è all'interno Come vedete ho fatto già una piccola modifichina al mio laboratorio ovvero la scritta Niki Che abbiamo intagliato con il laser che ho recensito qualche settimana fa Se no l'avete visto vi lascio il video in sovraimpressione da qua sopra insomma uscirà il video la i cliccateci sopra Troverete il video del laser dove ho intagliato quella scritta L'ho fatta di legno di recupero e poi l'ho verniciata comunque con una vernice spray niente di particolare Ed incollata con la colla per parati Devo dire che è venuta davvero bene, è venuta veramente bene sul grigio del laboratorio Così da darti comunque una visione un po' più smart Ho anche cambiato un po' la disposizione degli strumenti, ho fatto un po' più pulito Ho accorciato il piede del monitor per renderlo più utilizzabile E ho spostato qui il banco bianco che avevo centralmente e ho messo un po' di strumenti qui come il laser e la stampante 3D Ma adesso pensiamo a questo unboxing Ho preso una cosa che utilizzo tantissimo per riparare i mixer Mi hanno consigliato questo spray per andare a pulire gli slider o fader o fader come li chiamo io Praticamente è uno spray della Contact studiato appositamente per andare a ripristinare e a pulire gli slider dei mixer Cosa che si rovina tantissimo come avete visto molte volte Vado a riparare i mixer della Soundcraft o comunque qualsiasi altra tipologia di mixer e di slider Ma è anche ottimo per i potenziometri E devo dire che veramente mi hanno detto provalo perché è veramente buono Ovviamente è specifico per elettronica e per slider quindi è un uso prettamente e unico per gli slider Ovviamente ogni cosa ha bisogno del proprio strumento Anche se non è uno strumento questo però vabbè Altra cosa che ho preso che si è comunque consumata nel laboratorio È il filtro pulito nuovo per il mio aspiratore fumi che utilizzo nel laboratorio Questo aspiratore serve appunto per aspirare i fumi di saldatura Io l'ho posizionato in questo modo nel banco che va nella sua cabina di filtraggio sotto al banco Come abbiamo visto nel video in sovraimpressione Questa cappa aspirafumi ci aiuta tantissimo nelle lavorazioni Infatti va ad aspirare tutti i fumi della saldatura Quindi non andiamo a respirarli E avremo comunque un laboratorio sempre pulito e profumato E ovviamente a pulmoni anche puliti E evitiamo di intossicarci I fumi come vi dicevo vengono aspirati da questa condotta E vengono poi trasferiti all'interno di tre filtri presenti all'interno della cabina Il primo filtro per polveri sottili Secondo filtro che è quello che da sostituire Che è per EPA e prodotti chimici E il terzo filtro più grande a carboni attivi Che è ancora buono Diciamo che i primi due filtri vanno sostituiti almeno una volta all'anno O a seconda comunque delle lavorazioni che si fanno Come abbiamo visto dal video è molto importante andare a ripulire e a tirar via Tutti i fumi di saldatura Perché sono molto pericolosi per la nostra salute E ovviamente ricordarvi sempre di cambiare i filtri Questo come dicevo è un filtro studiato appunto per polveri ultra fini E per fumi comunque generati da prodotti chimici Il prossimo unboxing ci farà capire chi mi ha mandato questi strumenti O comunque dove io mi appoggio quando ho bisogno di strumenti professionali per il mio laboratorio L'azienda che mi sostiene quando cerco prodotti di questo tipo è la L-Shop Ho anche la maglietta che mi hanno mandato sempre all'interno del pacco Questa è una semplice borraccia che utilizzerò nel laboratorio quando ho sete Ma chi è L-Shop? L-Shop è uno store che mi sostiene Che condivide la mia visione di laboratorio e di elettronica sui social Ha tutta una selezione della stragrande maggioranza degli strumenti più precisi e più conosciuti Unque più buoni sul mercato Comprende dai prodotti di saldatura a prodotti per i banchi A strumenti di misura E a tutto ciò che abbiamo bisogno nel nostro laboratorio Ovviamente vi lascio il link dello store in descrizione Voglio ringraziare L-Shop per darmi la possibilità di farvi vedere questi strumenti Questo va via E adesso passiamo un po' a qualcosa di più interessante Come sapete benissimo guardando i miei video Nel mio laboratorio c'è sempre un casino assurdo Infatti come potete vedere c'è sempre un casino assurdo Vi ho messo questi spezzoni del tappetino ESD Cosa sono i tappetini ESD? Sono i tappetini anti correnti elettrostatiche collegati appunto alla messa a terra Che utilizzo per non generare, non rovinare comunque Generare le tensioni e rovinare l'elettronica che sto lavorando nel laboratorio Questi qui ce li ho da un paio di annetti e come vedete li dimostrano tutti Quindi ho trovato questo prodotto che li potrebbe sostituire Anche perché questi oramai sono andati Quelli che ho trovato li ho trovati sempre su L-Shop Andiamoli subito ad aprire e a posizionarli Li ho presi blu che sono più belli E sono un metro per 60 centimetri Sono enormi ed anche questi si possono collegare Alla messa a terra che devono essere collegati Alla messa a terra per scaricare appunto le correnti elettrostatiche Ma avendo due prese possiamo andare a collegare anche magari il bracciale E altri strumenti collegati a messa a terra direttamente tramite il tappetino Andiamoli subito a mettere Quindi andiamo subito a rimuovere quello vecchio Diamo una bella pulitina al banco E andiamo a posizionare questo tappeto molto più grande Che andrà anche sotto gli strumenti Per quello l'ho preso di queste dimensioni Una volta posizionato guardate come è bello Non basta altro che andarlo a collegare Ovviamente ammassa con il punto di massa che ho creato Così Et voilà Il tappetino è pronto per lavorare E direi che ha anche una visione molto più bella del laboratorio Ed ovviamente ne ho presi due per andare a completare la visione generale del laboratorio Per dargli una faccia tutta nuova e pulita Pulita tra parentesi qui è da sistemare Poi la cosa che mi piace di questo blu è che quando andiamo a vedere le schede Guardate risaltano molto di più Quindi anche per una questione comunque Per farvi vedere come lavoriamo, come facciamo, come risolviamo problematiche Direi che il blu è stata un'ultima scelta Ma adesso passiamo agli strumenti più fighi Questi comunque possono andare via Che ho preso per il mio laboratorio Ho preso questi strumenti perché ho in previsione di andare a fare un video su uno strumento un po' arcaico Che ho preso per il mio laboratorio Lo strumento che ho preso per il laboratorio è questo tracciacurve della Tektronix Che serve appunto per testare i componenti È una bella bestiolina anni 60 dal peso circa di 40 kg Pesa come un quindicenne praticamente Che riesce a dare tensioni di test fino a 1500 volt Con altrettante correnti comunque importanti Per andare a testare i semiconduttori Però è da calibrare E per calibrare strumenti di questo calibro C'è bisogno di altrettanta strumentazione di questo calibro È vero l'avevo potuto fare con il mio HP 3457 Ma dato che talvolta mi capita anche di andare in giro per fare delle misurazioni Ovviamente sarebbe stato un po' scomodo portarmi un multimetro di questa stazza Infatti come vedete e comunque lo conoscete molto molto bene È un multimetro da banco quindi è impossibile portarcelo dietro Ho anche questo multimetro che mi portavo dietro Ma avevo bisogno di qualcosa di molto più accurato e preciso E quindi che cosa ho scelto? Dato che dobbiamo andare a misurare all'interno dello strumento Tensioni molto alti dell'ordine del kilovolt La cosa di cui abbiamo bisogno è una sonda per alta tensione A cosa serve questa sonda? Questa sonda ci dà un'attenuazione all'alta tensione Cosa vuol dire? Niente di particolare Questa è una sonda 1000A1 Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi stiamo misurando un kilovolt Quindi 1000V Sul multimetro noi visualizzeremo un volt Questo è il rapporto 1000A1 Ed ovviamente questa sonda ci consente di misurare 40.000V in tensione continua E 28.000V in tensione alternata 40kV, 28kV Tensioni assurde Non voglio nemmeno urlare tanto Altrimenti mi sentono quelli dell'Enel E la vogliono anche loro Quando prendiamo questi strumenti È vero che magari vediamo un costo un po' alto Ma quando dobbiamo operare su queste tensioni così alte Che non perdonano Gli strumenti devono essere buoni Ovviamente abbiamo il manuale Ma è una sonda quindi manuale relativamente Questa è la connessione da andare a fare al multimetro Questa è la connessione a carcassa Della misurazione E questa è la sonda A differenza di una sonda normale per multimetri C'è una grande differenza insomma Dovuto appunto alla grandezza delle tensioni Che dobbiamo andare a misurare Cioè questa è la classica 1000V Questa è la 40kV Cioè c'è un po' di differenza Quindi queste Per queste tensioni Non vanno bene ragazzi Ci vogliono questa tipologia di sonde Questa in particolare è della Pintec Marchio comunque molto conosciuto Ho trovato molte recensioni positive di questa sonda E quindi ho deciso di prendere questa tipologia di sonda Ma ovviamente questa sonda Deve essere collegata a uno strumento Altrettanto accurato e preciso Per le misurazioni E quindi ho scelto un multimetro Molto molto preciso Con un rapporto qualità prezzo enorme E sto parlando del Bryman 869 Questo strumento vanta caratteristiche Veramente di alto profilo Quasi paragonabili se non del tutto paragonabili Al mio HP L'ho scelto anche perché Essendo rugged come dicono i bergamaschi insomma Vuol dire che resiste agli urti Ha uno schermo enorme E vanta 500 mila conteggi Oltre che ha una precisione veramente enorme Ovviamente questi strumenti li vedremo in video dedicati Perché voglio farvi vedere ogni strumento Nelle sue ogni minima caratteristica Questa è una visione generale Degli strumenti che ho preso per il laboratorio Ovviamente fornito con le sue sonde E non poteva mancare Il manuale di istruzioni Vediamo questa porta posteriore Che cos'è? Ci sono degli accessori Tramite questa porta di infrarossi Che si possono farlo interfacciare con altri strumenti Come per esempio il PC Abbiamo il modulo USB per collegarlo a PC Che io non ho preso perché non mi serviva per questo strumento Ma c'è Altro strumento che ho preso Oltre al multimedio della Bryman È uno strumento che mi serve per farvi un video Praticamente sulla misurazione delle correnti Cos'è la corrente elettrica? Lo sappiamo tutti se stiamo guardando questi strumenti Però per chi magari mi sta seguendo Che questo è il primo video che sta vedendo Ragazzi la corrente elettrica Va a braccetto con la tensione elettrica Diciamo che la tensione elettrica È la differenza di potenziale elettrico Tra due punti In uno schema, in un circuito Ovunque sia La corrente invece è quell'energia che scorre attraverso i componenti Che è quella proprio che a noi interessa Di andare a visionare, misurare e tenere sotto controllo Nelle nostre progettazioni, negli strumenti O comunque in apparati che magari bruciano i componenti E quindi ho preso questo altro strumentino Per andare a fare un video dedicato su cos'è E come si misura la corrente elettrica Ho preso una sonda di corrente della Mixig Per l'oscilloscopio Che cos'è una sonda di corrente per l'oscilloscopio? Una sonda amperometrica Appunto per andare a misurare la corrente elettrica Che scorre attraverso un conduttore Quindi un cavo per esempio Non un dito Che si può collegare all'oscilloscopio Per andare a vedere sull'oscilloscopio La corrente che sta scorrendo all'interno di un conduttore L'ho presa della Mixig Perché è un marchio veramente di rilievo Per questa strumentazione E ovviamente nel video che verrà Faremo la differenza Tra questa sonda E altre due sonde che ho Così andare a vedere anche la differenza E la precisione e accuratezza Di questi strumenti E lì verrà il perché ho preso questa sonda della Mixig Siamo arrivati alla fine del video E con il pezzo forte Di questo video Questo è uno strumento che ho sempre desiderato E dopo tanti sacrifici Sono riuscito a prendere finalmente Il multimetro dei miei sogni Un Fluc 87 quinto Questo multimetro È un multimetro ultra professionale Che ci dà accuratezza e precisione Praticamente Sempre In ogni situazione E questa è proprio la garanzia Che ci dà la Fluc Una garanzia a vita Sulle misurazioni di questi strumenti Ma ovviamente ricordatevi che i multimetri A scadenze periodiche Vanno ricalibrati Sempre Non esiste un multimetro che non si calibra mai Questo anche tra Questo tra due anni Lo manderò di nuovo alla Fluc Per farlo ricalibrare Perché io abbiamo sempre bisogno di una misura Precisa ed accurata Sempre Perché ho preso questo multimetro della Fluc Questo multimetro della Fluc Ovviamente in questo caso l'87 quinto È il multimetro di riferimento Per la precisione ed accuratezza Palmare Palmare che vuol dire Che lo possiamo tenere nel palmo di una mano Dimensioni molto simili al Bryman Accuratezza e precisione simili Ma quando misuri con un Fluc È tutta un'altra storia Precisione assurda Accuratezza assurda Anche lui fornito con le sue sonde E dei tappetti per andare a chiudere Prese banana che non utilizziamo Molto rugged anche lui Varie misurazioni le più assurde che potremmo immaginare Questo le può fare in modo ultra preciso E accurato Ovviamente anche la Fluc fornisce di questo attacco Per andare a utilizzare comunque accessori Per questo multimetro Non però andarlo a collegare a un PC Perché non è pensato per quello scopo Questo è un multimetro che devi portarti appresso Per avere accuratezza e precisione Praticamente sempre È il sogno della mia vita E finalmente sono riuscito Ad ottenere dopo anni e anni di sacrifici Un Fluc 87 quinto Ragazzi questi sono gli strumenti che ho preso Per il mio laboratorio Per andare avanti nelle riparazioni E portare avanti questo sogno che ho Dell'elettronica Ovviamente se volete sostenere i miei video E il mio canale Vi invito a premere la campanellina Per essere sempre informati Su ogni volta che pubblicherò un video Se vi va di sostenermi ancora di più Potete abbonarvi al canale tramite YouTube Oppure a Patreon Dove pubblico contenuti esclusivi Per i miei sostenitori E sulla barra Trovete tutte le informazioni Il link allo store e alle shop E tutte le info riguardo il mio canale Ciao ragazzi E ci vediamo al prossimo video